Oggi il gruppo è leader in Italia e tra i principali player europei nel settore dell'arredamento. I nostri marchi sono Febalcasa, Colombini Casa, Rossano Officè e la Colombini Group Contract, che è la nostra divisione specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni chiave in mano sia nel residenziale che nell'hotelleria e negli uffici. Nel 2021 abbiamo anche acquisito il gruppo Buontempi Casa. Un po' di numeri, abbiamo 250.000 metri quadri di superficie produttive in quattro stabilimenti a San Marino, siamo fortemente automatizzati, lavoriamo just in time, il processo produttivo è verticalmente integrato dall'acquisto delle materie prime fino al prodotto finito, circa 1.000 dipendenti, una rete distributiva molto ampia con 4.000 rivenditori e circa 170 negozi monomarca nel mondo. Le nostre vendite sono realizzate per circa l'85% in Italia e per il 15% all'estero, con focalizzazione soprattutto in Europa, Medio Oriente e parzialmente in Cina. L'innovazione è chiaramente un concetto ormai trasversale a tutte le nostre aree di attività. Il nostro approccio punta a promuovere la crescita attraverso innovazione tecnologica, che è fondamentale per rispondere chiaramente in maniera efficace alle sfide del mercato. La collaborazione con Amagama rappresenta un importante strumento di supporto in un percorso culturale e di crescita verso nuove soluzioni. Abbiamo sviluppato insieme un progetto strategico finalizzato allo studio e all'implementazione di nuove modalità di utilizzo dell'intelligenza artificiale per ottimizzare la gestione della commessa e della produzione del gruppo. L'intelligenza artificiale sviluppata con Amagama ci permette di interpretare una grande mole di dati trasformandola in informazioni utili per il business. Noi, grazie allo sviluppo di questi modelli predittivi, ci auspichiamo anche di automatizzare le operazioni di forecasting e di poter prevedere il comportamento del cliente prima dell'ordine, così da ulteriormente migliorare la soddisfazione e l'esperienza d'acquisto. Come Amagama supporta il gruppo Colombini? In questo caso specifico attraverso l'implementazione di una soluzione che abbiamo sviluppato che si chiama Anagram, che è un ottimizzatore di produzione. Il percorso di accompagnamento dei clienti, anche dopo che si è installata, una soluzione centrale, intanto perché si possono misurare insieme gli impatti, che credo che sia l'obiettivo principale, e poi perché comunque ogni volta quando entrano in campo soluzioni nuove bisogna per forza integrare con i sistemi esistenti, quindi da un lato l'integrazione con tutto l'esistente e dall'altro il continuo monitoraggio degli impatti che si generano attraverso la soluzione. Una soluzione come Anagram è in grado di avere un impatto sull'efficacia, sull'efficienza, sulla produttività e questi tre elementi spesso insieme poi si traducono in maggiore competitività per il cliente. Nel tempo con l'ampiamento della gamma di prodotto si è creato un aumento esponenziale dei dati da processare. Questo ha reso sempre più difficile mantenere il nostro standard con i vecchi metodi di programmazione della produzione. Abbiamo così messo in discussione l'intero sistema di programmazione utilizzando algoritmi di calcolo diversi dal passato e l'intelligenza artificiale per riuscire ad utilizzare queste enorme molle di dati, processarli e prevedere il miglior risultato di commessa giornaliera. Oggi tutte le nostre aziende sono sommersi dai dati ed è nostra responsabilità come manager, utilizzando tutte le tecnologie disponibili, fare in modo che questi dati vengano sempre trasformati in informazioni chiare e puntuali che permettano a tutta l'organizzazione di muoversi armonicamente. L'output di questo progetto non è stato solo ottenere l'ottimizzazione del processo ma anche l'aver creato una nuova piattaforma di informazioni, fortemente visual, aggiornata in tempo reale e disponibile a tutti i responsabili di processo. Dal punto di vista tecnico, Anagram è caratterizzato da un algoritmo in grado di pianificare gli ordini del portafoglio cliente nel lungo periodo e un altro algoritmo di ottimizzazione che prende gli ordini pianificati e le va a schedulare nel breve periodo. I risultati prodotti da Anagram sono stati molteplici. Abbiamo aumentato del 14% l'accuratezza sulla data di promessa consegna degli ordini ai clienti e ridotto del 20% le perdite intese come sovra o sottutilizzo rispetto alla capacità produttiva il che si traduce in un aumento di produzione migliore rispetto della data di promessa consegna e quindi un cliente più soddisfatto.